70 miglia a largo di Crotone, un peschereccio carico di migranti è al deriva, la capitaneria sta aspettando il momento migliore per il salvataggio. Il servizio di Matteo Parlato. Il peschereccio carico di migranti, individuato dalla capitaneria di porto a 70 miglia da Crotone, è ancora in balia delle onde. Il mare Forza 7 impedisce alle unità della capitaneria che gli sono intorno l'abordaggio e il trasbordo sulle motovedette di quanti sono a bordo. Ora, viste le condizioni del mare e il fatto che il peschereccio non manovra, è troppo alto il rischio di collisione e naufragio che trasformerebbe il soccorso in tragedia. La capitaneria ha dirottato a rilosso del vascello alla deriva dei mercantili pronti a intervenire anche loro in caso il motopesca non regga più la violenza del mare. Per dare il via alla parte conclusiva dell'operazione di soccorso si attende una finestra meteo ma, secondo i militari, per avere condizioni favorevoli all'abordaggio bisognerà aspettare ancora diverse ore. Ore in cui continuerà il monitoraggio del peschereccio alla deriva da parte della capitaneria di porto che ha in zona mezzi aerei e navali.